Una fiera dell'agricoltura che è iniziata con numeri record per quanto riguarda gli stand e gli espositori e che si è chiusa comunque con numeri record. Sì, la giornata di ieri in particolare è stata una giornata che ricorderemo, nel senso che probabilmente delle presenze così numerose, già a partire dalle primissime ore del mattino, perché siamo stati costretti ad aprire i grancelli già alle 9 e mezza, perché c'era una grandissima fila, per poi arrivare fino alle 9, perché abbiamo fatto fatica anche a fargli lasciare l'area della fiera. Una fiera veramente che ha, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, ma anche durante il 25 aprile, ha avuto numeri molto molto alti e probabilmente la giornata in più dell'inaugurazione, sebbene fosse solo durante la sera, comunque ha fatto registrare diverse migliaia di presenze, perché l'area è grande, è un'area di oltre un chilometro e mezzo di esposizione, quindi comunque le persone riescono a distribuirsi su una grande area. Ieri hanno occupato completamente anche tutti i prati interni ed è stata veramente una giornata molto bella che ci ha confermato che la location del Parco Fluviale consente a chiunque poi anche di restare, di rimanere in fiera, di godersi appena la giornata del verde. Lei anche da Presidente di Comitato Fiera, però sta già guardando al prossimo futuro, abbiamo parlato anche alla conferenza di presentazione, della volontà di allargare l'area. Sì, di allargare perché abbiamo oltre 20 espositori che sono rimasti fuori, ma c'è anche un tema di qualità delle esposizioni e di gestione di tutta quella che è la parte un po' più delicata, che è la somministrazione di alimenti e bevande, che rende un po' complessa la gestione della fiera, perché comunque deve rimanere una fiera dell'agricoltura. Quest'anno abbiamo avuto qualche difficoltà sotto l'aspetto della gestione, della somministrazione di alimenti e bevande. La nostra linea da seguire come Comitato è quella di aumentare gli spazi, ma aumentare anche la qualità. Non abbiamo dei sistemi di conteggio precisi che ci possano dare un dato certo. Abbiamo conteggiato solo gli accessi sul ponticello dell'Idol e altri accessi. Abbiamo fatto dei sondaggi sugli accessi al minuto in alcuni spazi, dopodiché sicuramente, ripeto, la giornata in più probabilmente ci ha dato qualche numero in più rispetto allo scorso anno, che comunque erano già moltissime nelle presenze lo scorso anno. Quindi siamo molto molto contenti.